salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi come avrete intuito volevo parlarvi e farvi vedere in azione un prodotto secondo me eccezionale per il suo rapporto prezzo prestazioni adattissimo per i bambini che vogliono divertirsi ma anche per gli adulti diciamo che ci si diverte non male il prodotto in questione è questo ragazzi questo è il mini scaler o mini cravler radiocomandato ragazzi questo mini scaler o cravler veramente veramente tanta roba piccolissimo è in scala 1 a 18 ha già incluso le batterie ricaricabili per la macchina che sono ricaricabili usb con già il suo cavetto usb e inclusi sono tre stilo che servono per il radiocomando che non sono ricaricabili però durano una vita quindi tre stilo lì non ricaricabili non sono un problema anche nel mio scaler diciamo bello mettiamola così non ho dentro le pile ricaricabili radiocomando che comunque i radiocomandi non consumano veramente niente e la bello di questo mini scaler ragazzi che va dappertutto infatti non so adesso lo vedete tutto sporco perché ho appena finito di adoperarlo con mia figlia quindi il video che andrete a vedere è come lo usa un bambino e cosa è in grado di fare e dove è in grado di andare questo piccolo scaler l'altra cosa interessante ragazzi è proprio come è costruito nel senso che ha i due assi indipendenti quindi proprio come uno scaler professionale quindi adesso ve lo faccio vedere un attimo da vicino vedete ragazzi il bello di questo scaler o questo crabbler anzi più non crabbler che uno scaler di la verità vedete come gli assi sono indipendenti davanti e dietro le sospensioni lavorano benissimo anche se sono tutte in plastica e tutto in plastico ovviamente anche perché costa veramente poco costa meno di 30 euro quindi ragazzi con meno di 30 euro cosa pretendiamo radiocomando pile ricaricabili macchina 4x4 che vada per tutto ragazzi un bambino e vi ripeto non solo un bambino si diverte veramente veramente tanto quindi ragazzi adesso partiamo con questo crabbler guidato da mia figlia vedrete cosa è in grado di fare e dove è in grado di andare questo piccolo crabbler in scala 1 18 quindi adesso ragazzi partiamo guarda non ci credo è più piccola della mia perché è più grande per la tua misura è si metti il dito nel buchino aspetta sei pronta aspetta sei pronta aspetta sei pronta aspetta sei pronta e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.